Ciao a tutti, benvenuti o bentornati sul mio canale, io sono Silvia e oggi un nuovo video. Vi ricordo che se avete piacere potete seguirevi su Instagram e vi ricordo che sono attiva anche su Facebook. Vi lascio il link nell'info box. Detto questo, diamoci dentro col video. Esistono crimini che rivelano la parte più oscura dell'animo umano. Atti che sfuggono a qualsiasi logica o spiegazione razionale. Dietro gesti apparentemente inspiegabili, si nascondono a volte desideri distorti che portano a violenze inimmaginabili, come quella del caso che vi sto per raccontare. È la fine del 1987 e ci troviamo a Nusa Heights, una città costiera del Queensland, in Australia. Qui vive Shan Kinji, una bambina di 12 anni, nata il 16 dicembre 1974, figlia unica di Barry e Linda Kinji. La sua famiglia è originaria della Nuova Zelanda e Shan ha una parziale discendenza Maori. Frequenta la Sunshine Beach State High School, dove è molto popolare tra i suoi coetanei e ha tanti amici. Shan è una bellissima bambina, ha i lunghi capelli biondi ed è indubbiamente una delle ragazze più alte della sua scuola. Ben 167 centimetri. Questo le dà un vantaggio nel netball, uno sport di squadra simile alla pallacanestro. Di natura gentile e adorabile, la madre racconta che è sempre stata una bambina piuttosto timida e riservata con gli estranei, mentre con i suoi amici si dimostrava più socievole e scherzosa. Si sta avvicinando il compleanno di una delle sue più care amiche e Shan è emozionatissima perché stanno organizzando una festa a cui non vede l'ora di partecipare. Per l'occasione, Shan e sua madre hanno in programma di andare al centro commerciale per scegliere insieme la stoffa con cui confezionare il suo abito per la festa. Venerdì 27 novembre 1987, Shan va a scuola e segue le lezioni programmate per quel giorno. Nel pomeriggio torna a casa e poi esce con la madre per fare spese al centro commerciale Nusa Fair Shopping Center. In un negozio di tessuti, Sian trova la stoffa perfetta per il suo vestito. La festa è prevista per domenica, quindi manca solo qualche giorno. Completati gli acquisti verso le 16.30, Shan saluta sua madre dicendole che si sarebbero visti a casa e con la sua bicicletta gialla inizia a pedalare in direzione del Pinneroo Picnic Park a Nusa Heads. Di solito ci mette al massimo quattro minuti per rincasare, passando per quel breve tragitto che conosce molto bene. Dopo essersi separate, Linda si ferma a comprare del pane fresco in un panificio, poi torna a casa a piedi percorrendo una strada diversa da quella di Shan. Nusa Heads è una tranquilla città costiera ed è considerata un posto sicuro in cui vivere, quindi non è insolito che una bambina torni a casa in bicicletta da sola per un tragitto così breve. Una volta a casa, Linda sistema gli acquisti. È strano che Shan non sia ancora rientrata, avrebbe dovuto essere già a casa a quell'ora, considerando che, essendo in bicicletta, avrebbe dovuto impiegare meno tempo della madre. Linda pensa che forse Shan si sia fermata a chiacchierare con degli amici incontrati per caso, magari riguardo alla festa a cui avrebbe partecipato qualche giorno dopo. Shan è una bambina molto educata, non è inclina a infrangere le regole o a rimanere fuori casa oltre l'orario stabilito dai genitori. Il tempo però passa e di Shan non c'è traccia. Linda inizia seriamente a preoccuparsi, così prende il telefono e prova a chiamare tutti gli amici di Shan, ma nessuno l'ha vista dopo scuola. La preoccupazione continua a salire, ma Linda aspetta ancora un paio d'ore, sperando che sua figlia rientri da un momento all'altro. Ma questo, purtroppo, non accade. Quando Barry, il padre di Shan, rientra da lavoro, lui e Linda decidono di uscire e dirigersi al Pinaroo Park, sperando di trovarla ancora lì. Sono le 20 quando iniziano a cercare la loro bambina, ma, purtroppo, non trovano alcuna traccia di Shan, eccetto la sua bicicletta gialla, abbandonata a terra accanto alla pista ciclabile. È un segnale allarmante. Shan adorava la sua bicicletta e non l'avrebbe mai lasciata volontariamente. Era forse successo qualcosa che l'aveva portata a buttare la bicicletta a terra e a nascondersi? O forse qualcuno l'aveva rapita? Alle 20 e 30 di quel venerdì sera, Barry e Linda si recano alla stazione di polizia di Nusa Heads per denunciare la scomparsa di Shan. Mostrano alla polizia una sua foto e un agente la riconosce immediatamente. Nonostante Nusa Heads sia una comunità sicura in quegli anni, gli investigatori comprendono immediatamente che qualcosa non va e temono che possa essere accaduto al peggio. Sebbene si consideri l'ipotesi di un allontanamento volontario, la possibilità che sia andata realmente così sono davvero scarse. Shan ha appena 12 anni, va d'accordo con i suoi genitori, anzi, a dirla tutta, li ama da morire. Ha tanti amici che le vogliono bene e va molto bene a scuola. Insomma, non avrebbe avuto alcun motivo per scappare. E poi? Perché avrebbe abbandonato così la sua bicicletta? La polizia si rende conto rapidamente che non si tratta di una fuga. Hanno la terribile sensazione che a Shan si è capitato qualcosa di molto grave. Potrebbe essere stata rapita. Contattano immediatamente i giornali locali chiedendo di scrivere un articolo sulla scomparsa di Shan, sperando che la comunità possa offrire qualche indizio. Viene allestita una sala operativa presso la stazione di polizia e, dopo aver letto della scomparsa di Shan sul giornale la mattina successiva, molte persone contattano la polizia affermando di averla vista durante la giornata precedente, ma di non aver notato alcuna attività sospetta. Gli ufficiali aprono un'indagine e le ricerche di Shan al Pineru Park iniziano subito, ma non emergono prove concrete o indizi su dove potrebbe essere andata la bambina. Diversi agenti di polizia vengono arruolati per le ricerche e i sommozzatori iniziano a cercare Shan anche nei corsi d'acqua vicini alla zona. I genitori della bambina, Barry e Linda, sono distrutti dall'angoscia. Appaiono in televisione per raccontare i momenti precedenti alla scomparsa della loro adorata figlia. Poco dopo la polizia rilascia un appello al pubblico e in poco tempo il caso viene riportato su giornali e notiziari di tutto il Queensland, diffondendosi a macchia d'olio. Nel tentativo di stimolare i ricordi dei cittadini viene posizionato un manichino vicino a dove Shan è stata vista l'ultima volta, vestito con abiti simili a quelli che indossava la bambina il giorno della sua scomparsa e, grazie all'importante copertura mediatica, la polizia riceve diversi suggerimenti e indizi. La comunità locale si mobilita immediatamente dopo aver appreso la notizia e molti si uniscono subito alle ricerche. Sperano tutti che Shan venga ritrovata viva, così da tornare presto dalla sua famiglia. Purtroppo però le speranze dell'intera comunità si infrangono il 3 dicembre 1987, sei giorni dopo la sua scomparsa, quando un raccoglitore di frutta di nome Neil Clark nota un odore nauseabondo mentre si dirige al lavoro a Castways Creek, a 15 km di distanza dal Pinaroo Park, dove Shan era stata vista per l'ultima volta. Non è la prima volta che Neil nota quell'odore, lo aveva sentito anche il giorno prima mentre tornava a casa dal lavoro. Si rende conto a questo punto che quell'odore è ancora più forte, così inizia ad addentrarsi nella foresta guardandosi attorno nel tentativo di capire quale sia la fonte. Ben presto fa una macabra scoperta. Quell'odore che sente proviene da un corpo in decomposizione, quello di Shan Kinji. Neil chiama immediatamente la polizia. Un detective arriva di corsa sulla scena. Quando vede il corpo di Shan, dato che è già in stato di decomposizione, ipotizza che la bambina sia morta il giorno in cui è scomparsa. Il corpo già già faccia in giù, nel letto di un torrente asciutto nella Timberwa Mountain State Forest, che oggi è conosciuta come Tewantin National Park. Shan è vestita solo parzialmente, indossa ancora l'uniforme scolastica, ma lei è stata tolta la biancheria intima, che viene trovata non lontano dal suo corpo. Questo indica un movente intimo. L'autopsia conferma che Shan è stata aggredita intimamente prima di essere brutalmente assassinata. Viene accertato che, oltre ad essere stata strangolata, Shan ha subito diverse ferite da taglio. In totale le sono state inflitte 12 pugnalate, per la maggior parte nella zona del torace. È stata colpita anche al collo e, osservando che una delle sue mani è quasi completamente mozzata, si suppone che Shan abbia cercato di reagire e di difendersi. Le ferite da taglio sono molto profonde, tanto che una pugnalata le ha raggiunto la spina dorsale e altre tre pugnalate le hanno perforato il cuore. La notizia del terribile omicidio di Shan non devasta solo la sua famiglia, ma lascia un segno indelebile in tutta l'Australia. Chi mai potrebbe fare qualcosa di così orribile a una bambina di appena 12 anni? È compito della polizia rispondere a questa domanda e il caso della scomparsa di Shan diventa un'indagine per omicidio. I detective sentono la pressione di dover identificare e catturare il colpevole al più presto, prima che possa colpire di nuovo. Fortunatamente al momento del ritrovamento del corpo di Shan, la polizia ha già alcune linee di indagine promettenti. Come accennato, la notizia della sua scomparsa e del successivo ritrovamento si è diffusa molto velocemente per il Queensland, generando una serie di segnalazioni provenienti dal pubblico. Tra queste ci sono un paio di indizi che sembrano colpire particolarmente la polizia. poiché viene sempre menzionato lo stesso veicolo. Un testimone riferisce di aver visto nel pomeriggio del 27 novembre, ovvero il pomeriggio in cui Shan è scomparsa, una Holden Kingswood bianca nella zona di Pinneroo Park, lo stesso parco che Shan stava attraversando in bicicletta. Secondo i registri, ci sono circa 10.000 Holden Kingswood di colore bianco immatricolate nel Queensland in quel periodo. Un veicolo molto popolare verso la fine degli anni Ottanta. La polizia ritiene che quella macchina potrebbe essere collegata al caso, soprattutto perché un'altra segnalazione menziona lo stesso modello di auto. Due giorni dopo la scomparsa di Shan, domenica 29 novembre, una donna di nome Elizabeth Young e il suo amico Bill Wallens stavano prendendo il sole a Castaways Creek, la stessa zona in cui il corpo di Elizabeth è stato successivamente trovato senza vita. I due affermano che il pomeriggio in cui Shan era scomparsa avevano notato uno strano uomo dall'aspetto trasandato che stava camminando lungo la spiaggia. Elizabeth gli aveva rivolto un sorriso gentile mentre le passava davanti, ma lui non aveva ricambiato, anzi si era limitato a lanciargli un'occhiataccia. C'era qualcosa di disturbante in quell'uomo che aveva messo davvero a disagio entrambi. Avevano quindi deciso di andare a controllare l'auto di Bill, perché in passato erano già stati a Castaways Creek un paio di volte e una di queste Bill aveva trovato l'auto scassinata. Arrivati al parcheggio avevano notato nuovamente lo stesso uomo che appena li aveva visti era entrato velocemente all'interno di una Holden Kingswood di colore bianco e si era allontanato in fretta. Il comportamento sospetto dell'uomo faceva intuire che Elizabeth e Bill lo avessero spaventato per qualche motivo. Alla fine di questo incontro bizzarro i ragazzi si erano convinti che ci fosse qualcosa di strano tanto da decidere di annotare la targa del veicolo. Passano i giorni e apprendono della scomparsa di Sean. Sentendo che proprio quel tipo specifico di macchina era stata avvistata nel parco in cui la ragazzina era scomparsa, Elizabeth e Bill decidono di chiamare la polizia riferendo di aver avvistato una macchina dello stesso modello e colore a Castaways Creek. E se fosse proprio quella la macchina collegata alla scomparsa e all'omicidio di Sean? Il detective chiede ai due testimoni di recarsi alla stazione di polizia dove Elizabeth e Bill forniscono il numero di targa che hanno annotato LLE429. La polizia inserisce la targa nel database del Queensland ma non trova nulla. Controlla anche il database del New South Wales ma anche in questo caso non ottiene alcun risultato. Infine prova a cercare la targa nel database di Victoria e finalmente emerge una corrispondenza. Il veicolo risulta registrato a nome di una donna chiamata Velma Beck. La polizia si dirige quindi all'indirizzo associato alla targa in Victoria. Quando bussano alla porta è un uomo anziano ad aprire. La polizia gli chiede se per caso l'auto appartiene a lui ma l'uomo spiega che in realtà l'automobile è del suo figliastro adottivo, Barry Watts. Indagando ulteriormente la polizia scopre che Velma Beck, la persona a cui è intestato il veicolo, è sposata con Barry Watts, il figliastro dell'uomo anziano con cui hanno parlato. Barry sembra corrispondere alla descrizione di quell'uomo dall'aspetto trasandato che Elizabeth e Bill avevano visto a Castway's Creek. La polizia allora indaga più approfonditamente su questa coppia, scoprendo che entrambi hanno una lunga storia criminale alle spalle. In effetti entrambi hanno dei mandati di cattura a loro nome e pare che siano in fuga. Velma Beck nasce nel 1943, quindi a 44 anni quando Sean scompare. Da bambina è stata molto trascurata e per questo motivo è stata posta sotto la tutela dello Stato. Inizia a commettere crimini fin da adolescente, principalmente furti e rapine, e dal 1961 al 1972 viene arrestata e rilasciata molte volte. Velma si sposa un paio di volte nel corso degli anni e Barry Watts è il suo terzo marito. Ha sei figli avuti dai suoi precedenti matrimoni, ma dalle fonti risulta che Velma li ha abbandonati quando le relazioni erano finite. Nel 1983 incontra Barry Watts mentre lavora in una taverna. Barry è nato nel 1953 e quindi più giovane di Velma di dieci anni. Orfano, ha anche lui una lunga fedina penale, esattamente come Velma. È stato arrestato per furto con scasso e per aver forzato delle casse forti, ma ha commesso anche altri reati come effrazione e violazione di domicilio. Quando la coppia si sposa, alla fine del 1986, Velma e Barry iniziano a delinquere insieme. Barry commette rapine insieme al suo migliore amico, mentre Velma fa da palo. Entrambi vengono catturati e arrestati a metà del 1987 per reati di rapina e frode, ma alla fine escono su cauzione solo qualche settimana dopo. Velma e Barry non riescono proprio a condurre una vita che non sia sporcata da attività criminali. Violano i termini della libertà su cauzione, fuggendo dall'Australia occidentale, dove vivono, iniziando a spostarsi di continuo. Si recano nel sud dell'Australia, da lì poi raggiungono Victoria e lungo il tragitto comprano una macchina nuova, proprio la Holden Kingswood di cui vi ho già parlato. Successivamente si spostano nel nuovo Galles del Sud e infine il loro viaggio termina nel Queensland nell'ottobre 1987, un mese prima che Shang Kinji venga rapita e uccisa. Mentre in fuga la coppia utilizza nomi diversi e Velma cerca costantemente di camuffare il suo aspetto, cambiando spesso anche il colore di capelli per evitare di essere riconosciuta. Alla fine però è l'auto che hanno comprato che permette alla polizia di identificarli. La polizia a questo punto si chiede se questa coppia potrebbe essere coinvolta in ciò che è successo a Sean, dato che i due commettono abitualmente crimini insieme. Elizabeth e Bill, i due testimoni, avevano però affermato di aver visto solo un uomo dall'aspetto trasandato, ovvero Barry. Se è stato davvero Barry a uccidere Sean, è possibile che sua moglie Velma sia stata sua complice? Mentre le indagini proseguono, la polizia riesce a ottenere delle prove a sostegno di questa teoria. Scoprono infatti diverse nuove piste, le quali suggeriscono che Barry e Velma avessero già tentato di rapire altre giovani donne prima della scomparsa di Sean. Una delle persone che si mettono in contatto con la polizia è una donna di nome Nicole. Lavora come infermiera presso Lipswich Hospital, un ospedale universitario situato a 40 chilometri ad ovest da Brisbane, nel Queensland. Nicole racconta alla polizia che poche settimane prima dell'omicidio di Sean, la sera del 10 dicembre 1987, aveva appena finito il suo turno in ospedale, verso mezzanotte, e stava attraversando a piedi il parcheggio per raggiungere la sua auto. Mentre camminava aveva notato un veicolo, una Holden bianca, che aveva iniziato a guidare verso di lei a gran velocità. Nicole si era immediatamente innervosita, così aveva accelerato il passo, aveva aperto velocemente la portiera della sua macchina e si era seduta al posto di guida. A questo punto si era resa conto che la macchina bianca si era fermata proprio davanti al suo veicolo, bloccandolo completamente, visto che ai lati e dietro c'erano altri mezzi parcheggiati. La donna aveva notato che c'erano due persone in questa Holden bianca, un uomo e una donna. L'uomo era acceso dal veicolo e si era avvicinato al finestrino di Nicole, dicendole che si erano persi e domandando se potesse dare loro delle indicazioni per raggiungere un certo luogo. Aveva chiesto a Nicole anche la cortesia di dare un'occhiata alla sua mappa per indicargli il percorso migliore da seguire. Nicole aveva consentito e dopo che l'uomo era andato a prendere la mappa, la ragazza era scesa dal suo veicolo per dare un'occhiata. Avvicinandosi alla macchina di quest'uomo aveva guardato casualmente verso il sedile posteriore dell'automobile e aveva notato una grande quantità di corde. Questo le aveva fatto di nuovo alzare la guardia. C'era qualcosa in questa coppia che faceva sentire Nicole molto a disagio. L'uomo era tornato con la mappa e mentre la stava consultando Nicole si era resa conto che continuava ad avvicinarsi a lei sempre di più. Fortunatamente proprio in quel momento un uomo aveva iniziato a camminare nei pressi del parcheggio spaventando l'uomo che stava chiedendo indicazioni perché appena lo aveva visto si era allontanato rapidamente permettendo a Nicole di salire nuovamente in macchina, mettere in moto e partire il prima possibile. Nicole col senno di poi si rende conto che probabilmente la sua vita era stata in pericolo quella notte. Pensa seriamente che quella coppia volesse rapirla. Dopo aver appreso queste informazioni la polizia mostra a Nicole una serie di foto che includono anche quelle di Barry Watts e Velma Beck. Nicole le riconosce immediatamente come le due persone che ha incontrato nel parcheggio dell'ospedale quella notte. Quello di Nicole non è l'unico tentativo di rapimento a cui la polizia collega Velma Beck e Barry Watts. Ce n'era stato un altro il giorno successivo, l'11 novembre. Un uomo e una donna alla guida di una Holden Bianca avevano tentato di rapire una giovane donna di nome Cheryl. Cheryl che lavorava da Target era stata avvicinata nel parcheggio di un centro commerciale. Anche a lei avevano chiesto di dargli una mano con delle indicazioni stradali ma la ragazza aveva capito immediatamente che quella coppia non l'aveva fermata per capire in che direzione dovessero andare perché l'uomo aveva estratto un coltello e insieme alla donna che l'aveva presa per i capelli aveva cercato di trascinare Cheryl all'interno del loro veicolo. Fortunatamente lei era riuscita a reagire, aveva strappato il coltello dalla mano dell'uomo e lui, mentre provava a riprenderlo, si era inadvertitamente procurato un taglio a una mano. Questo aveva dato a Cheryl la possibilità di scappare. La polizia le fa vedere la serie di foto che aveva mostrato a Nicole e, come lei, anche Cheryl identifica immediatamente le due persone che hanno tentato di rapirla dopo la scomparsa di Sean. In più, un'impronta digitale presente sulla sua macchina corrisponde a quella di Barry Watts. Le prove contro i due criminali continuano ad aumentare, rendendo Barry Watts e Velma Beck i principali sospettati del rapimento e dell'omicidio di Sean Kinsey. La polizia a questo punto deve trovarli e gli investigatori incaricati delle indagini scoprono che, mentre era nel Queensland, la coppia aveva affittato una casa a Lowood, che si trova a circa 204 chilometri da Nusa Hills, il luogo da dove è scomparsa Sean. Gli investigatori si dirigono immediatamente verso quella casa, ma al loro arrivo si rendono subito conto che non c'è traccia della coppia. Mentre ispezionano l'alloggio, scoprono degli indizi che suggeriscono che Velma e Barry abbiano cercato di camuffare il loro aspetto. Viene trovata la scatola vuota di una tinta per capelli e delle ciocche di entrambi. Evidentemente si erano anche tagliati i capelli. Individuano anche delle prove che indicano che l'ultima volta che la coppia era stata in quella casa a Lowood era il 4 dicembre, proprio il giorno dopo il ritrovamento del corpo di Sean. Ai detective pare che i due abbiano deciso di fuggire nuovamente, subito dopo essere venuti a conoscenza della notizia del ritrovamento del corpo di Sean. Poiché i due non sono rintracciabili, la polizia parla con l'agente immobiliare che si occupa dell'affitto della casa in cui alloggiavano Velma e Barry. L'agente immobiliare fortunatamente è in possesso di un assegno per pagare l'affitto che i due avevano spedito e lo mostra alla polizia. Quell'assegno rivela che la coppia sta soggiornando in un hotel a The Entrance, una città del Nuovo Galles del Sud. Avevano percorso ben 880 chilometri, quindi erano riusciti ad allontanarsi non poco dal Queensland. I detective si dirigono quindi verso quel motel del Nuovo Galles del Sud e il 12 dicembre 1987 arrestano Barry e sua moglie Velma con l'accusa dell'omicidio di Sean Kingy e per il tentato rapimento di Cheryl. Sono passati 15 giorni dalla morte di Sean. Vengono estradati nel Queensland per essere interrogati separatamente. All'inizio non parlano, né Velma né Barry confessano il coinvolgimento nell'omicidio di Sean. Con il passare dei minuti però gli investigatori si rendono conto che probabilmente Velma Beck è quella che potrebbe crollare per prima. Sembra quasi che desideri parlare. I detective così cercano di far leva sul suo essere madre, facendola sentire in colpa. Le chiedono di pensare a come si possano sentire i genitori di Sean, secondo lei, al dolore che stanno vivendo. Ma Velma continua a tentennare finché uno dei detective le dice Immagina che Sean fosse tua figlia. Non vorresti delle risposte? Non vorresti sapere cosa le sia successo? Non vorresti sapere la verità? Questa tecnica in effetti sembra funzionare perché Velma finalmente confessa. Ammette che sì, è vero. Lei e suo marito Barry hanno rapito, aggredito intimamente e ucciso Sean Kenji. La donna racconta la sua versione dei fatti di quel pomeriggio e ciò che era successo a lei e a suo marito nel periodo precedente all'omicidio. Spiega anche come sono arrivati alla decisione di portare a termine questo orribile crimine. Velma descrive Barry come un uomo molto violento e dice che l'aveva picchiata in innumerevoli occasioni. Lo dipinge come un uomo molto volubile e irrascibile. Nei mesi precedenti all'omicidio di Sean, Barry aveva rivelato a sua moglie che stava iniziando ad avere delle fantasie oscure e violente sulle studentesse. Era attratto dalle giovani scolari, al punto che aveva pure obbligato sua moglie a indossare una divisa da studentessa. Peccato che Velma avesse circa 40 anni. Barry spiava le studentesse alle fermate degli autobus, ma limitarsi a osservarle di nascosto non era più sufficiente per soddisfare i suoi desideri perversi. Barry voleva aggredire intimamente una giovane studentessa e sua moglie doveva aiutarlo. Sua moglie doveva trovare una ragazza che Barry avrebbe potuto aggredire intimamente e poi uccidere. Nello specifico aveva detto alla moglie che voleva essere il primo e l'ultimo partner di una giovane vergine. Se lo avesse aiutato a trovare una vittima e quindi a soddisfare questa fantasia, lui le aveva promesso che avrebbe smesso di essere così aggressivo con lei e le sarebbe stato fedele per il resto della sua vita. Barry probabilmente aveva chiesto a sua moglie Velma di aiutarlo perché sapeva che rapire una bambina sarebbe stato molto più semplice grazie all'aiuto di una donna. Pensiamoci un attimo, i bambini istintivamente si fidano di più delle donne piuttosto che degli uomini se sono estranei. I genitori e gli insegnanti di solito dicono ai bambini di stare attenti agli uomini sconosciuti, ma raramente li mettono in guardia anche sulle donne, specialmente negli anni Ottanta. Barry sapeva che, se avesse provato ad adescare una ragazzina da solo, avrebbe rischiato di non riuscire a raggiungere il suo obiettivo, ma se fosse stata sua moglie Velma a farsi avanti, forse si sarebbe fidata abbastanza da allontanarsi con loro. Quindi Barry le aveva chiesto aiuto e lei aveva accettato, disposta a fare qualunque cosa pur di non perderlo. Si pensa infatti che Velma, essendo più grande di dieci anni rispetto al marito, vivesse nel costante timore che lui potesse lasciarla per una donna più giovane. Velma racconta alla polizia che la mattina del 27 novembre 1987, suo marito, una volta sveglio, gli aveva sussurrato, Oggi è il giorno giusto. Così erano saliti sulla loro macchina bianca e si erano diretti a Nusa Heads alla ricerca di una giovane vittima. Avevano guidato in cerca di qualche ragazzina che attirasse l'attenzione di Barry e, alla fine, avevano deciso di parcheggiare la macchina al Pineru Park, rimanendo seduti all'interno del veicolo. Dopo un po' di tempo erano scesi dall'automobile e avevano iniziato a guardarsi intorno, finché Barry non aveva notato Sean Kinsey. La dodicenne stava andando in bicicletta nel parco. Come sappiamo, stava tornando a casa dopo aver fatto qualche acquisto con sua madre. Barry, appena l'aveva vista, aveva deciso. Lei sì che era la vittima perfetta per lui. Era molto giovane e indossava un uniforme scolastica. Quindi Barry aveva detto a Velma di avvicinarla. La donna, fingendo di aver perso il suo cane, un piccolo barboncino bianco con un fiocco rosa come collare, aveva chiesto a Sean se potesse aiutarla a cercarlo. Dato che Sean era molto gentile, aveva accettato senza esitazione. Tuttavia, questo era solo un modo per la coppia di attirare Sean e distrarla, perché pochi istanti dopo, Barry le si era avvicinato da dietro, l'aveva afferrata e imbavagliata per impedirle di urlare, e infine l'aveva trascinata sul sedile posteriore della loro macchina, dove l'avevano legata con del nastro adesivo. Barry si era seduto accanto a Sean sul sedile posteriore e le aveva tenuto la testa abbassata, mentre Velma avviava la macchina e cominciava ad allontanarsi. La donna aveva guidato per circa 20 minuti fino a raggiungere la Timberwatt Mountain State Forest, a circa 16 chilometri da Pinnaru Park. Aveva raggiunto una parte della foresta remota e tranquilla, non c'era nessun altro nei paraggi. Sean era stata trascinata fuori dalla macchina e poi le era stato ordinato di sdraiarsi su un copriletto posizionato a terra. È a questo punto che Barry l'aveva aggredita intimamente più volte. Durante la confessione, Velma pronuncia queste esatte parole. Non ha mai pianto, non ha mai versato una lacrima, era una ragazza coraggiosa, non ha mai emesso un solo suono, ha semplicemente fatto tutto quello che Barry gli aveva detto. Dopo aver violato la piccola Sean, Barry l'aveva strangolata e pugnalata a morte. Durante la sua confessione, Velma cerca di distanziarsi dalla parte più brutale del crimine, negando di aver partecipato alla violenza o all'omicidio di Sean. Afferma di essersi limitata ad aspettare vicino alla macchina senza prendere parte agli atti più efferati. Però gli investigatori non credono alla sua versione. Ritengono che la donna fosse più coinvolta di quanto voglia lasciare intendere. Dopo che Sean era stata uccisa, la coppia aveva spostato il suo corpo in un'altra zona della foresta, abbandonandolo nel letto di un fiume ormai asciutto. Poi erano saliti in macchina e si erano allontanati. Prima di tornare a casa, si erano liberati del coltello, della corda, del copriletto e del nastro adesivo, gettando tutto nel Lake McDonald, un lago di Nusa. Sono tutti oggetti che in seguito verranno recuperati dalla polizia. Dopo aver eliminato queste prove, erano tornati a casa e avevano trascorso la serata guardando la televisione, come se nulla fosse. Velma racconta agli investigatori che lei e suo marito avevano avuto un rapporto intimo quella notte. E la mancanza di rimorso di Velma e Barry è evidente. Nessuno dei due sembrava disgustato dal terribile atto commesso. Anzi, direi che ne erano entusiasti. Barry, al contrario di sua moglie, si rifiuta di rispondere a qualsiasi domanda o di ammettere la sua colpevolezza. Tuttavia, quando scopre che invece Velma ha confessato, la sua rabbia esplode. Barry è a dir poco furioso per il tradimento di Velma. Avrebbe voluto che entrambi si portassero questo segreto nella tomba, senza ammetterlo mai. Mentre la coppia è in custodia e la polizia sta costruendo il caso contro di loro, i detective escogitano un piano. Posizionano Velma e Barry in due celle molto vicine tra loro. Barry occupa una prima cella, quella accanto è vuota, nella terza c'è Velma e quella successiva è nuovamente vuota. I due sono molto vicini e i detective, all'insaputa della coppia, avevano installato dei dispositivi di registrazione all'interno delle loro celle. Sperano che Barry e Velma parlino liberamente dell'omicidio quando non ci sono poliziotti nei paraggi, convinti di non essere ascoltati. In questo modo, la polizia spera di ottenere una prova in più, utile per incriminare Barry, che non ha ancora confessato. Il piano funziona. I due discutono dell'omicidio di Sean e Velma confessa a suo marito di aver detto tutto alla polizia. Le registrazioni catturano Barry mentre esprime il desiderio di ripetere l'orrendo crimine. Ma c'è di più. Viene registrato anche mentre cerca di convincere sua moglie a togliersi la vita nella cella in cui era inchiusa, a causa della sua confessione. Insomma, Barry sa che la confessione di Velma sarebbe stata una prova schiacciante contro di lui durante il processo. Tuttavia pensava che se Velma si fosse uccisa prima dell'inizio del processo, la sua confessione sarebbe stata rispinta perché considerata inammissibile. Di conseguenza avrebbe avuto più possibilità di farla franca. Velma però non si toglie la vita e un paio di giorni dopo il loro arresto, entrambi vengono accusati del rapimento, della violenza intima e dell'omicidio di Sean Kinji. Quando la notizia degli arresti e delle accuse si diffonde, l'intera comunità si infuria. Sono disgustati dal fatto che i due esseri del genere vivessero tra di loro, soprattutto perché Velma non solo è una donna, ma è anche madre di sei figli. Questo caso sciocca profondamente la comunità di Nusahead. Le persone sono così arrabbiate da chiedere a gran voce che Barry Watts e Velma Beck vengano giustiziati per quello che hanno fatto. Quando la coppia fa la prima apparizione in tribunale per l'udienza di rinvio a giudizio, centinaia di persone si radunano all'esterno, urlando insulti e mostrando striscioni e cartelli che invocano la pena di morte per i due imputati. Alcuni appendono persino diversi cappi ai lampioni. Per loro sarebbe una vera gioia vedere questi due esseri immondi morti per impiccagione. Barry e Velma vengono processati separatamente. Mentre lui si dichiara non colpevole di tutte le accuse, sua moglie si dichiara colpevole del rapimento e della violenza intima di Sean, ma non del suo omicidio. Alla fine dei loro processi entrambi vengono condannati per tutte le accuse e ricevono l'ergastolo per l'omicidio. Per le accuse di rapimento e violenza intima, Velma riceve un'ulteriore condanna da 3 a 10 anni, mentre Barry Watts ne riceve una da 3 a 15 anni. In questo modo è molto probabile che nessuno dei due esca mai più di prigione, per fortuna. Tuttavia questa storia non finisce qui. Dopo la condanna emerge che Barry aveva confessato e si era vantato con i suoi compagni di prigione di aver commesso anche un altro omicidio, quello di una giovane donna di nome Helen Mary Finney. Helen era una giovane madre e insegnante tirocinante di Brisbane. Aveva solo 31 anni, quando era scomparsa improvvisamente il 29 ottobre 1987, appena due settimane dopo l'arrivo di Barry e Velma nel Queensland, dopo essere fuggiti dall'Australia occidentale. Meno di un mese prima che Sean Kingy venisse rapita e uccisa. L'auto di Helen era stata trovata abbandonata in un parcheggio a Carseldin, un soborgo di Brisbane. Uno dei finestrini era rotto, questo aveva portato i detective a credere che la donna fosse stata aggredita e rapita nel parcheggio, per poi essere probabilmente assassinata. Il suo corpo però non era mai stato trovato. Solo dopo la condanna di Barry Watts per l'omicidio di Sean, i detective vengono informati del fatto che si era vantato mentre era dietro le sbarre, dicendo che sebbene fosse stato preso per l'omicidio di Sean, aveva ucciso anche un'altra persona, Helen, riuscendo a farla franca. La polizia sa che non avrebbe ottenuto una confessione sull'omicidio di Helen direttamente da Barry, così gli investigatori si rivolgono a Velma per chiederle aiuto. Chiedono alla donna se Barry avesse mai confessato di aver ucciso Helen. Velma spiega ai detective che Barry aveva ucciso Helen quando lei lo aveva sorpreso mentre cercava di entrare nella sua auto, in quel parcheggio. Ecco perché il finestrino era rotto. Velma precisa di non aver assistito direttamente all'omicidio di Helen, ma dice di aver visto una coperta rossa nel bagagliaio della loro auto da cui spuntavano dei capelli chiari. Aveva capito immediatamente che quello era il corpo della donna che Barry aveva assassinato, Helen Mary Finney. Velma afferma che suo marito gli aveva chiesto di aiutarlo a liberarsi del corpo di Helen, ma lei si era rifiutata di farlo, lasciando che Barry se la sbrigasse da solo. Crede che Barry abbia sepolto Helen in una fossa poco profonda da qualche parte nella città di Lowood, nel Queensland. Ma, almeno ad oggi, i resti di Helen non sono mai stati trovati. Nonostante la mancanza di prove concrete, la polizia decide di accusare Barry Watts dell'omicidio di Helen e il processo inizia nel 1995, otto anni dopo la sua scomparsa. Purtroppo, durante il processo viene stabilito che non ci sono prove sufficienti per condannarlo, poiché il corpo di Helen non era mai stato ritrovato. Così Barry Watts viene dichiarato non colpevole. La polizia interroga nuovamente l'uomo nel 2007, due decenni dopo la morte di Sean ed Helen. Durante questo interrogatorio, ammette finalmente il suo coinvolgimento nel delitto di Sean Kinji, ma si rifiuta di confessare anche l'omicidio di Helen e di rivelare la posizione dei suoi resti. Teme, infatti, che se venisse considerato un serial, non verrebbe mai più preso in considerazione per la libertà vigilata. In ogni caso, Barry Watts oggi ha circa 71 anni e continua ad essere in prigione. Ha provato a richiedere la libertà condizionale, ma un disegno di legge approvato nel 2021 intitolato a Sean ha sostanzialmente bloccato ogni possibilità che ciò accada. La legge di Sean è stata introdotta nel tentativo di tenere rinchiusi gli assassini più brutali il più a lungo possibile, permettendo alla Commissione per la libertà condizionale del Queensland di negare ai serial e agli assassini di bambini di richiedere la libertà condizionale a tempo indeterminato, o almeno di prolungare l'attesa di almeno 10 anni dalla data di ammissibilità. Se a un assassino come Barry Watts viene negata la libertà condizionale, la Commissione può decidere che non gli verrà mai consentito di presentare nuovamente una domanda per la libertà vigilata. Quindi Barry Watts morirà in prigione, dove ha passato gli ultimi 37 anni della sua vita. Velma Beck ha divorziato ufficialmente da Barry nel 1990, tre anni dopo l'omicidio di Sean. In prigione è stata aggredita ripetutamente da altri detenuti per il tipo di crimine che ha commesso. D'altronde gli assassini di bambini sono considerati tra i peggiori criminali tra i detenuti. Quindi la donna è diventata un facile bersaglio. Durante un'aggressione viene colpita alla testa con un barattolo di latta nascosto in un calzino, che le causa danni permanenti ai nervi di un lato della testa. A causa di queste continue aggressioni viene trasferita, inizialmente in una prigione di Brisbane, e alla fine al Townsville Correctional Center, sempre nel Queensland. Durante la reclusione ha una relazione con un uomo di nome Robert Farden, un molestore seriale. Si avvicina alla religione, diventa cristiana, e ad un certo punto, ironia della sorte, si ritrova detenuta nella stessa prigione di Catherine Birney, un'assassina australiana che, insieme a suo marito David, ha ucciso quattro giovani donne nel 1986. Velma prova a richiedere la libertà condizionale un paio di volte nel corso degli anni, ma la sua domanda viene sempre respinta. Ad un certo punto cambia il suo nome da Velma Beck a Faye Krembe. Dopo oltre vent'anni in prigione, inizia a soffrire di problemi di salute. Ha superato i 60 anni e fa fatica a respirare, quindi viene sottoposta a un intervento chirurgico al cuore. L'operazione però non va come previsto. Cade in coma e non riesce più a svegliarsi. Velma Beck, o forse dovrei dire Faye Krembe, muore il 27 maggio 2008, all'età di 64 anni. E ora, veniamo alle conclusioni. Non riesco proprio a immaginare cosa Sean abbia provato durante i suoi ultimi momenti di vita. Il suo terrore deve essere stato inimmaginabile, eppure si è dimostrata incredibilmente coraggiosa nell'affrontare il suo triste destino. Aveva solo 12 anni, era ancora una bambina, e questo è davvero un caso straziante. Barry e Velma si sono appostati appositamente per rapire, fare violenza e uccidere una bambina. La depravazione di questi due individui è ripugnante. Alcuni considerano Velma una vittima, e avrebbe potuto anche esserlo, fino a quando non ha iniziato a fare il palo per rapire delle donne. Ma, collaborando con suo marito per quanto mi riguarda, è diventata una complice a tutti gli effetti. So che negli anni che ha passato in prigione ha subito molti obusi fisici e verbali senza mai reagire. Onestamente non sono certo a favore della violenza fine a se stessa. Picchiare Velma non ha di sicuro riportato in vita Sean. Tuttavia, Velma ha tirato quella bambina fingendo di aver perso il suo cagnolino, e poi è rimasta impassibile quando suo marito l'ha assalita e uccisa. Come si possa rimanere insensibili davanti a una scena del genere, è per me un mistero. Se poi penso che ha anche abbandonato sei figli senza provare alcun rimorso, mi chiedo se questa donna abbia mai conosciuto il significato della parola empatia. Concludo dicendovi che è importante insegnare i bambini a essere cauti con gli estranei, fin da piccoli, uomini o donne che siano. Le cattive intenzioni non sono prerogativa esclusiva degli uomini. Trovo tra l'altro assurdo che a queste persone sia stato consentito di fare domanda per ottenere la libertà vigilata, dato che sono stati condannati all'ergastolo senza libertà vigilata. Barry Watts non meritava assolutamente di rivedere la luce del sole al di fuori di un carcere, e sono felice che la legge di Sean gliel'abbia impedito. Sono quasi certa che se fosse stato rilasciato avrebbe ricominciato a uccidere. Ora sono curiosa ovviamente di conoscere le vostre opinioni e le vostre idee. Fatemi sapere se conoscevate questo caso, io no, non lo conoscevo, e fatemi sapere insomma che cosa avete provato, quali sono le vostre sensazioni, che cosa ne pensate. Sono sempre molto curiosa di leggere i vostri commenti, e trovo che facciate anche delle bellissime riflessioni, vedo che siete molto sensibili, empatici, quindi per me è davvero un piacere leggervi ogni settimana e sapere quali sono le vostre opinioni. Detto questo, vi mando un bacione e noi ci vediamo prestissimo nel prossimo video. Mi raccomando, fate i bravi, continuate a mangiare le verdure che continuano a far bene, ma soprattutto prendetevi cura di voi e fate ciò che vi rende felici. Basta che non facciate nulla di criminale. Ciao a tutti! Ciao a tutti!